risposta da parte sua e della Presidenza, che cambiare primo grado e secondo grado o fare queste variazioni che ho citato e che solo per brevità, ma se gli uffici vogliono farci vedere i testi, sono cambiate nel merito, se queste sono variazioni del merito o semplicemente formali e quindi il coordinamento può sostituire la fase emendativa prevista dagli articoli che ho citato, motivo per il quale abbiamo richiesto che il testo, come dal regolamento della Camera, ritorni nelle commissioni per il parere, ritorni nel comitato per la legislazione per il parere. È assurdo che un testo che è diventato da 51 articoli a 30 dopo il parere per la legislazione vada in aula facendo finta che il comitato per la legislazione si sia espresso sul nuovo testo e così non è stato, Presidente. Quindi ci dica semplicemente che ormai i lavori di questa Camera sono finti perché tutto avviene con forme che non sono previste dal regolamento, con la scusa della parola coordinamento che in realtà, come ho dimostrato, ha modificato nel merito il testo. Grazie, Presidente. Sì, la ringrazio. Allora, come lei ben saprà, il suo capogruppo, con una lettera scritta alla Presidente Boldrini, segnalava queste, a suo avviso, irregolarità. La Presidente Boldrini, con un carteggio con la Presidente di Commissione, ha chiesto chiarimenti e, in base alla risposta la Presidente di Commissione, ha formulato la risposta, che è l'ultima risposta ufficiale della Presidenza della Camera al suo capogruppo, immagino, nel quale si specificava che non ci sono, non si ravvisano irregolarità nella procedura. Se ritiene che questa risposta non sia soddisfacente, può ulteriormente sollecitare la Presidenza attraverso il suo capogruppo. A questo punto passiamo all'ordine del giorno, che rega la discussione del testo unificato delle proposte di legge numero 1039, 1138, 1189, 2580, 2737, 2786, 2956A, modifica al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di quel decreto legislativo 6 settembre 2011. Numero 159, al codice penale, alle norme di attuazione, di coordinamento e transitori del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate. Avverto che lo schema recante alla ripartizione dei tempi è pubblicato in calcio al vigente calendario dei lavori dell'Assemblea. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Il Presidente del gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle ne ha chiesto l'ampliamento. La Commissione di Giustizia si intende autorizzata a riferire oralmente. A facoltà di intervenire il relatore deputato Davide Mattiello. La riforma del codice antimafia che ci accingiamo a discutere e votare è attesa da molti, molto e da anni. Il codice antimafia scritto nella precedente legislatura tra il 2010 e il 2011 ha rappresentato certamente un passo avanti importante, contribuendo senz'altro alla sistematizzazione della materia e alla messa a punto di strumenti fondamentali, soprattutto sul fronte della...